Janet La Storta Il reverendo Mardoch Sulis fu per lungo tempo curato della parrocchia di Balveri, nella valle di Dool, nella Brughiera. Era un vecchio dall'aspetto severo, pallido in volto. Che incuteva timore in chi lo ascoltava. Trascorse gli ultimi anni della sua vita completamente solo, senza parenti né domestici, nel piccolo e isolato presbiterio del Hansen Show. Nonostante la ferma compostezza dei suoi lineamenti, aveva lo sguardo agitato, spaventato e incerto. E quando si soffermava, durante le confessioni, sul futuro dell'uomo impenitente, sembrava che il suo occhio penetrasse attraverso le tempeste del tempo, fino ai terrori dell'eternità. Molti giovani che venivano a prepararsi alla prima comunione rimanevano terribilmente impressionati dai suoi discorsi. Ogni anno, la prima domenica, dopo il 17 di agosto, teneva un sermone sull'ottavo versetto della prima epistola di San Pietro. Il diavolo come un leone ruggente, in cui superava se stesso nel commento al testo, sia per la terribile natura del soggetto, sia per il terrore che ispirava il suo atteggiamento dal pulpito. I bambini ne erano spaventati fino alle convulsioni e i vecchi, per il resto della giornata, apparivano più sentenziosi del solito, pieni di tutte quelle allusioni tanto deprecate da Amleto. Lo stesso presbiterio, situato tra i folti alberi presso le acque di Dool, con il boschetto che lo sovrastava da un lato e dall'altro le fredde brulle cime dei monti che si innalzavano numerose verso il cielo, aveva cominciato, fin dai primi tempi del ministero del reverendo Sulis, a essere evitato verso il crepuscolo da tutti quelli che si consideravano prudenti. E i capi famiglia, seduti nella birreria del villaggio, scuotevano la testa al pensiero di passare a tarda ora nei paraggi di quella località così sinistra. Anzi, per essere precisi, c'era un punto soprattutto che ispirava particolare timore. Il presbiterio sorgeva fra la strada maestra e il Dool, con una facciata su ciascuno dei due. Il retro guardava verso il villaggio di Belveri, lontano circa mezzo miglio, e sul davanti un giardino spoglio circondato da siepi di rovo occupava il terreno fra il fiume e la strada. La strada era a due piani, ciascuna di due ampie terrazze. Non si apriva direttamente sul giardino, bensì su una specie di viottolo o passaggio selciato, che da una parte dava sulla strada maestra e dall'altra era chiuso dagli alti salici e dai sambuchi, che crescevano lungo la riva del torrente. Ed era proprio questo viottolo ad avere una così brutta fama tra i giovani parrucchiani di Belveri. Il curato vi passeggiava spesso dopo il tramonto, talvolta giamendo ad alta voce nel fervore della sua orazione mentale. E quando egli si assentava e la porta del presbiterio era chiusa a chiave, solo gli scolaretti più coraggiosi si avventuravano, giocando a seguire il capo in quel luogo quasi leggendario, col cuore che batteva forte. Quest'atmosfera di terrore che circondava di fatto un ministro di Dio dal carattere e dall'ortodossia immacolati era comunemente ragione di stupore e argomento di domande da parte dei pochi forestieri che, al caso, gli affari conducevano in quel paese sconosciuto e fuori mano. Ma anche molta gente della parrocchia era all'oscuro degli strani eventi che avevano marcato il primo anno del ministero del reverendo Sulis e, tra i meglio informati, alcuni erano reticenti per natura, altri invece si mostravano particolarmente restii a parlare di quella faccenda. Solo di tanto in tanto qualcuno dei più vecchi verso il terzo bicchiere acquistava coraggio e cominciava a raccontare la causa dello strano aspetto e della vita solitaria del curato. 50 anni fa, quando il reverendo Sulis venne per la prima volta a Belveri, era ancora un giovanotto, un ragazzo, diceva la gente, assai colto e bravissimo nel predicare, ma come era naturale in un uomo tanto giovane, senza alcuna esperienza vissuta, in fatto di religione. I più giovani rimanevano incantati dalle sue doti e dalla sua eloquenza, ma le persone anziane, più serie e riflessive, si sentivano perfino spinte a pregare per quel giovanotto che consideravano un povero illuso e anche per la loro parrocchia che sembrava così mal fornita di una guida. Tutto questo avveniva prima del tempo dei moderati. Maledizione a loro! Ma le cose cattive sono come quelle buone, vanno e vengono piano piano, un po' alla volta. Già allora comunque c'era chi diceva che il Signore aveva abbandonato tutti i professori e che i ragazzi che andavano a studiare presso di loro avrebbero fatto di più e meglio restandosene seduti in una torbiera, come i loro antenati al tempo della persecuzione, con una Bibbia sotto il braccio e lo spirito della preghiera nel cuore. Ma insomma, senza dubbio, il ravarendo Sulis era rimasto troppo a lungo in collegio. Si curava e si preoccupava di molte cose oltre alla sola necessaria. Aveva un mucchio di libri con sé, più di quanti se ne fossero mai visti in tutto il presbiterio. E il facchino ebbe il suo bel da fare a trasportarli fin là, perché rischiarono di impantanarsi nella palude del diavolo tra Belverli e Kermakli. Erano libri di teologia, si capisce, o almeno così si diceva. Ma le persone seri erano dell'opinione che fosse proprio inutile possederne così tanti quando tutti i Vangeli si possono portare nella cocca di uno scialle. E poi se ne stava seduto a scrivere per metà della giornata e metà della notte, il che non stava neanche bene. Sulle prime si pensò che stesse rileggendo i suoi sermoni, ma in seguito si seppe che stava scrivendo a un libro egli stesso, il che non era davvero appropriato per uno della sua età e di così poca esperienza. Ad ogni modo occorreva prendere una donna anziana e per bene che si occupasse del presbiterio e provvedesse ai suoi pasti frugali. Egli fu raccomandata una vecchiaccia, una certa Jeanette Mellour, ed egli si lasciò persuadere troppo facilmente, facendo di testa sua. Furono imparecchie a metterlo in guardia, poiché quella Jeanette risultava più che sospetta alla gente migliore di Beverly. Diverso tempo prima aveva avuto un bambino da un soldato dei Dragoni. Da circa trent'anni non riceveva la comunione ed i ragazzi l'avevano sentita borbottare qualcosa tra sé e sé al buio dalle parti del sentiero di Kay, luogo poco adatto a quell'ora per una donna temorata di Dio. Comunque era stato lo stesso il signore del paese a parlare per primo di Jeanette, al curato, e costui a quel tempo sarebbe andato molto più in là per far piacere al signore del paese. Quando la gente gli diceva che Jeanette era parente del diavolo, secondo lui si trattava soltanto di superstizione e quando gli tiravano fuori la Bibbia e la strega di Andor, controbatteva con foga e ricacciava a tutti le parole in gola affermando che quei giorni erano ormai passati e che il demonio era grazie alla misericordia divina molto meno potente. Bene, quando per il villaggio si sparse la voce che Jeanette McClure andava a fare la governante al presbiterio, la gente divenne furiosa sia con lei che con il curato e alcune comari non trovarono di meglio da fare che piazzarsi di fronte alla porta della sua casa e accusarla di tutto ciò che si sapeva sul suo conto, dal figlio avuto col soldato alle due vacche di John Thompson. Jeanette di solito parlava poco. La gente in genere la lasciava andare per la sua strada e altrettanto faceva lei senza tanti buongiorno e buonasera ma quando ci si metteva aveva una lingua da assordare un mugnaio. Salto su e spiattellò ai quattroventi tutti i vecchi pettegolezzi di Belvery facendo inferocire le donne. Se le dicevano una cosa lei ne rispondeva due finché a un certo momento le comari la ferrarono e strapparono i vestiti di dosso e la tracinarono per il villaggio giù fino alle acque del Dool per vedere sarà una strega o no se restava a galla o se affogava. La vecchia urlava tanto che la si poteva sentire fino dal boschetto lottando come dieci persone e ci furono parecchie di quelle comari che portarono addosso i suoi segni il giorno dopo e molti altri ancora ed ecco proprio nel mezzo della mischia arrivare per sua sventura il nuovo curato Don disse e la sua voce era solenne nel nome del signore io vi ordino di lasciarla andare Jeannette corse verso di lui sconvolta dal terrore e gli si aggrappò e lo scongiurò per amore di Cristo di salvarla dalle comari e quelle da parte loro gli dissero tutto ciò che sapevano sul conto di lei e forse ancora di più donna domanda allora lui a Jeannette è vero tutto questo come il signore mi vede risponde quella come è vero che mi ha creata non una sola parola a parte il bambino sono sempre stata una donna a posto sei disposta dice allora il reverendo Sulis nel nome di Dio e davanti a me suo indegno ministro a rinunciare al diavolo e alle sue tentazioni bene sembra che quando egli le pose questa domanda la vecchia fece una smorfia che mise abbastanza paura a quanti la videro e la siò di battere forte i denti ma non c'era altra scelta in quel frangente e Jeannette alzò la mano e rinunciò al diavolo davanti a tutti e ora dice il reverendo Sulis rivolto alle comari tornatevene a casa tutte quante e pregate Dio affinché vi perdoni e diede il braccio a Jeannette nonostante avesse indosso sì e no la camicia e l'accompagnò su per il villaggio fino alla porta di casa come se si trattasse di una gran dama mentre lei gridava e rideva che era uno scandalo starla a sentire ci furono molte persone assennate che si trattennero a lungo a pregare quella notte ma quando venne il mattino una tale paura si abbatté su belveri che i bambini correvano a nascondersi e perfino gli uomini se ne stavano zitti a spiare dietro le porte perché c'era Jeannette che scendeva giù per il villaggio lei o il suo fantasma nessuno avrebbe potuto dirlo col collo torto e la testa girata da una parte come quella di un impiccato e sul suo viso una smorfia che la faceva somigliare a un cadavere non ancora ricomposto può passare a passare del tempo ci si fece l'abitudine e ci fu perfino chi la interrogò per sapere cosa le fosse successo ma da quel giorno in avanti non fu più capace di parlare come una cristiana sbavava e i denti le battevano come un paio di cesoie e le sue labbra non riuscirono più da allora in poi a pronunciare il nome di dio tentava a volte di pronunciarlo ma non era possibile chi più sapeva più taceva ma nessuno chiamò mai quella cosa jeanette mcclure poiché la vecchia jeanette secondo loro era sprofondata quel giorno nell'inferno incurato tuttavia non era tipo da lasciarsi influenzare dagli altri andava dicendo che la crudeltà di quella gente le aveva fatto venire un attacco di paralisi distribuiva scapaccioni ai bambini che la importunavano e la notte stessa di quel famoso giorno la fece traslocare su al presbiterio e abitò là a Han Jin Shou tutto solo con lei il tempo passò e la gente più superficiale cominciò a pensare sempre meno a quella brutta faccenda il curato godeva di buona stima faceva sempre tardi a scrivere è vero e dal fiume si poteva vedere la luce della sua candela fino a mezzanotte passata ma appariva soddisfatto e pieno di fiducia in se stesso come nei primi tempi sebbene tutti si accorgessero che deperiva per quanto riguarda Jeannette andava avanti e indietro se prima non parlava molto adesso aveva il motivo di parlare ancora meno non si impicciava di niente ma era orribile a vedersi e nessuno si sarebbe sognato di imbrogliarla nei conti dei terreni della parrocchia verso la fine di luglio venne un tempo come non se n'era mai visto da queste parti l'aria era immobile calda e opprimente le greggi non ce la facevano a salire fin sopra la collina nera i bambini erano troppo stanchi per giocare pure a tratti si levava anche il vento con raffiche roventi che brontolavano sordamente per le vallate e brevi acquazzoni che non riuscivano a mitigare la calura si pensava sempre che il giorno dopo dovesse scoppiare il temporale ma veniva il mattino ne veniva un altro ed era sempre quello stesso tempo spossante che affliggeva gli uomini e il bestiame fra tutti quelli che stavano peggio nessuno soffriva come il reverendo sulis non riusciva né a dormire né a mangiare come diceva i suoi consiglieri parocchiali e quando non se ne stava a scrivere quel suo noioso libro vagava per la campagna come un ossesso mentre chiunque altro era ben felice di starsene al fresco dentro casa al di sopra del Hanjin Shou al riparo della collina nera c'è un piccolo terreno recintato con un cancello di ferro sembra che nei tempi andati fosse il cimitero di Baal cioè consecrato dai papisti prima che la luce benedetta splendesse sul regno ad ogni modo era uno dei posti frequentati abitualmente dal reverendo Sulis è lì che si sedeva di solito per pensare ai suoi sermoni e in verità è un luogo ben riparato dunque un giorno mentre superava la parte ovest della collina egli vide prima due poi quattro poi sette corvi volare in tondo sopra il vecchio cimitero volavano bassi e pesanti roteando e gracchiando tra loro era chiaro che qualcosa doveva aver disturbato le loro abitudini ma il reverendo Sulis non era tipo da lasciarsi impressionare facilmente e andò dritto fino al muretto di cinta e cosa trovò un uomo o qualcosa che ne aveva l'apparenza seduto nel recinto sopra una tomba era alto di statura nero come l'inferno e con degli occhi stranissimi il reverendo Sulis aveva sentito molte volte parlare di uomini neri ma in quello lì c'era qualcosa di indecifrabile che lo intimoriva con tutto il caldo che aveva provò come un gelido brivido d'orrore nel midollo delle ossa ma riuscì lo stesso a dire con voce ben chiara amico mio non siete di qui vero? l'uomo nero non aprì bocca si alzò in piedi e cominciò a camminare come strisciando dirigendosi verso il lato opposto del muretto di cinta e intanto non staccava gli occhi dal curato e il curato rimaneva lì e lo fissava a sua volta poi in un attimo l'uomo nero fu con un balzo al di là del muretto e corse a rifugiarsi tra gli alberi il reverendo sulis quasi senza sapere perché prese a rincorrerlo ma era stanco morto per la camminata fatta poco prima con quel caldo terribile e per quanto corresse riuscì appena a scorgere l'uomo nero tra le betulle finché non arrivò ai piedi del pendio dove lo vide ancora una volta mentre a passi e salti attraversava le acque del dul dirigendosi verso il presbiterio il reverendo sulis non fu molto contento che quello spaventoso vagabondo si pigliasse la libertà di entrare nel presbiterio e corse ancora più forte e attraversò il torrente bagnandosi le scarpe e si ritrova finalmente sul viottolo ma non c'era nessun uomo nero lì andò sulla strada maestra nessuno fece il giro del giardino niente nessun uomo nero alla fine un po' spaventato come era naturale tirò il saliscendi e dentro in casa e lì davanti ai suoi occhi ecco jeanette mcclure col suo collo torto e non troppo contenta di vederlo e il reverendo lo disse sempre in seguito che appena pose gli occhi su di lei provò quello stesso brivido freddo e mortale di prima jeanette le disse hai visto un uomo nero un uomo nero ripete lei dio ci salvi tutti vi sbagliate reverendo non c'è nessun uomo nero a belveri ma non parlava chiaro lo capite bene farfugliava come un cavalluccio col morso in bocca bene disse sulis jeanette se non c'è nessun uomo nero io ho parlato col diavolo in persona e così dicendo cadde a sedere battendo i denti come chi ha la febbre sciocchezze dice jeanette dovreste vergognarvi reverendo e gli servì un sorso di acquavite che teneva sempre a portata di mano il curato se ne andò nello studio tra i suoi libri questo studio è una stanza lunga bassa e male illuminata mortalmente fredda d'inverno e umida anche nel colmo dell'estate poiché il presbiterio sorge vicino al torrente dunque il reverendo si mise a sedere e pensò a tutto quello che era successo da quando era arrivato a belveri e pensò alla sua casa e ai giorni in cui era un bambino e correva per i prati ma quell'uomo nero gli tornava sempre in testa come il ritornello di una canzone più pensava più quell'uomo nero gli veniva in mente provò a pregare ma non si ricordava le parole cercò di mettersi a scrivere il suo libro ma non riusciva ad andare avanti vi erano momenti in cui gli sembrava che l'uomo nero gli stesse accanto e allora il sudore gli si gelava addosso come acqua di pozzo e vi erano altri momenti in cui si riprendeva e non aveva più paura di nulla come un bimbo appena battezzato infine andò alla finestra e se ne restò lì in piedi ad osservare le acque del Dool con uno sguardo intenso e corrucciato vicino al presbiterio gli alberi sono particolarmente fitti e l'acqua è profonda e scura e c'era Jeannette che lavava i panni con gli abiti rimboccati voltava le spalle al curato e questi d'altro canto si era appena accorto di starla a guardare a un certo momento si voltò mostrando la faccia e reverendo Sulis risentì ancora lo stesso brivido freddo che aveva già provato due volte quel giorno e gli venne in mente ciò che la gente diceva che Jeannette era morta da molto tempo e quella era soltanto una larva rivestita delle sue carni fredde come la terra si fece un po' indietro osservandola attentamente stava sbattendo i panni e canticchiava tra sé ma oh Dio ci guidi aveva la faccia spaventosa a tatti cantava più forte ma nessuno al mondo avrebbe saputo dire le parole della sua canzone e poi ogni tanto guardava in giù di lato sebbene non ci fosse nulla da guardare da quella parte il reverendo provò un moto di paura e di ribrezzo in tutto il suo essere e di certo era un avvertimento del cielo ma invece si rimproverò di pensare così male di una povera vecchia malata senza altri amici che lui così recitò una breve preghiera per lei e per sé beve un sorso d'acqua fresca poiché gli si rivoltava allo stomaco solo al pensiero di mangiare e salì a colicarsi nel suo semplice letto mentre cadevano le ombre della sera quella notte la notte del 17 agosto 1712 non è mai più stata dimenticata Belveri era stato caldo fino allora come ho detto ma quella notte era più calda che mai il sole tramontò fra nuvole mai viste e venne un buio fitto come la pece senza una stella senza un alito di vento non avresti visto la tua mano davanti al viso perfino i vecchi avevano gettato via le coperte dal letto e respiravano a fatica con tutto quello che aveva in mente era piuttosto improbabile che il reverendo Sulis potesse dormire molto si rivoltava e rivoltava di continuo il buon letto fresco in cui era entrato sembrava che gli bruciasse le ossa si assopiva e per svegliarsi subito dopo sentiva battere le ore poi un cane urulare nella brughiera come se fosse morto qualcuno a tratti credeva di udire dei folletti bisbigliargli qualcosa all'orecchio poi gli pareva di vedere dei fuochi fatui danzare per la stanza pensò di essere ammalato e lo era infatti anche se non sospettava neppure di quale malattia infine ebbe un momento di lucidità si rizzò a sedere in camicia da notte sulla sponda del letto e cominciò di nuovo a pensare all'uomo nero e a Jeannette non avrebbe saputo spiegare bene come forse fu il freddo del pavimento ai piedi ma di colpo ebbe la sensazione che vi fosse un qualche nesso fra i due e che l'uno o l'altra o forse entrambi fossero dei fantasmi e proprio in quel momento dalla stanza di Jeannette che si trovava accanto alla sua venne un tramestio come di persone che stessero lottando poi un forte tonfo quindi un'affolata di vento passò frusciando nelle quattro stanze della casa e di nuovo tutto tornò silenzioso come una tomba il reverendo Sulis non aveva paura né degli uomini né dei diavoli presa le scale a ciarino accese una candela e fece qualche passo verso la porta di Jeannette il saliscendi era alzato spinse l'uscio e guardò dentro risolutamente la stanza era ampia grande quanto la sua piena di mobili imponenti vecchi e solidi dato che non ne aveva altri c'era un letto con quattro colonne e il baldacchino di vecchia tapezzeria un bell'armadietto di quercia pieno di libri di teologia del curato messi lì perché non fossero d'ingombro le povere poche cose di Jeannette erano sparse qua e là sul pavimento ma il reverendo Sulis non riusciva a scorgere né Jeannette né alcun segno di lotta entrò dentro e pochi credero avrebbero seguito si guardò intorno ascoltò ma non c'era nulla da ascoltare nulla dentro il presbiterio né in tutta la parrocchia di Belveri e nulla da vedere tranne le lunghe ombre che danzavano intorno alla candela e poi ad un tratto il cuore del curato ebbe un violento palpito e si arrestò mentre un vento freddo gli passava fra i capelli che triste visione fu quella per il poveretto c'era Jeannette lì appesa a un chiodo accanto al vecchio armadietto di quercia la testa sempre piegata sulla spalla gli occhi stralunati la lingua tutta fuori dalla bocca e i piedi ai due palmi dal pavimento Dio ci perdoni tutti pensò il reverendo Sulis la povera Jeannette è morta fece un passo verso il cadavere e il cuore gli sussultò nel petto perché per qualche stregoneria incomprensibile mente umana la vecchia era appesa a un unico chiodo per un unico filo di lana ritorta di quello da rammendare le calze è una cosa orribile trovarsi soli di notte con tali sinistri prodigi ma il reverendo Sulis era forte nel signore si voltò e uscì da quella stanza chiudendo la porta a chiave dietro di sé poi un gradino dopo l'altro scese le scale sentendosi pesante come il piombo e posò la candela sul tavolino non riusciva a pregare non riusciva a pensare gocciolava sudore freddo e non avvertiva altro che i battiti accelerati del suo cuore era lì forse da un'ora forse da due non ci aveva fatto attenzione quando all'improvviso sentì un leggero misterioso rumore al piano di sopra un passo andava avanti e indietro nella stanza un passo andava avanti e indietro nella stanza dove pendeva impiccato il corpo di Jeanette poi la porta venne aperta benché egli l'avesse chiusa a chiave come ricordava bene e si udì un passo sul pianerottolo gli sembrò che il cadavere si fosse affacciato alla ringhiera delle scale e guardasse in basso verso di lui prese di nuovo la candela non ce la faceva stare senza luce e facendo meno rumore possibile uscì fuori dal presbiterio e si diresse fino in fondo al viottolo era sempre buio come la pece la fiamma della candela quando la posò in terra brillò ferma e chiara come in una stanza chiusa nulla si muoveva tranne le acque del dul che scorrevano pigre si inghiozzando giù per la valle mentre quel passo infernale scendeva lentamente le scale all'interno del presbiterio era un passo che il curato conosceva fin troppo bene perché era quello di Jeanette e man mano che si faceva più vicino il gelo gli penetrava sempre più nelle viscere raccomandò la sua anima al creatore che lo teneva in vita oh signore diceva dammi questa notte la forza per combattere contro le potenze del male in quel momento il passo stava percorrendo l'andito verso la porta di casa si poteva sentire una mano che strusciava lungo il muro come se quella cosa spaventosa stesse cercando la strada a tentoni i salici si agitarono gemendo un lungo sospiro venne dalle colline la fiamma della candela vacillò ed ecco lì in piedi sulla soglia del presbiterio c'era il cadavere di Jeanette la storta con il suo vestito di percal e la cuffia nera la testa sempre piegata verso la spalla e quella smorfia ancora scolpita sul viso viva avresti detto morta come il reverendo sulis ben sapeva è strano come l'anima dell'uomo sia così legata alla sua spoglia mortale pure il curato vide tutto questo e il suo cuore non venne meno essa non rimase a lungo lì in piedi cominciò di nuovo a muoversi dirigendosi lentamente verso il reverendo sulis che era rimasto fermo sotto i salici tutta la vitalità del suo corpo tutta la forza della sua anima gli risplendevano negli occhi sembrò che essa stesse per parlare ma fece solo un cenno con la sinistra come se ne mancassero le parole venne una raffica di vento come il soffio di un gatto la candela si spense i salici mandarono un lamento simile a una voce umana e il reverendo sulis a un tratto complese che ne uscisse vivo o morto era qui che si doveva concludere la storia strega maga diavolo urlò io ti ordino in nome di dio di andartene se sei morta alla tomba se sei dannata all'inferno e allora la mano stesa del signore colpì dall'alto dei cieli l'orrore lì dove si trovava il vecchio morto sconsacrato corpo della strega così a lungo sottratto alla tomba e portato in giro dai diavoli prese fuoco come uno zolfanello e cadde a terra ridotto in cenere seguì vibrante il tuono un rombo dietro l'altro poi la pioggia scrociante il reverendo sulis attraversò con un balzo la siepe del giardino e corse urlando verso il villaggio quella stessa mattina John Christie vide l'uomo nero passare vicino a McClellan mentre rintoccavano le sei prima delle otto passò accanto alla locanda di Knockdown poco dopo Sandy McClellan lo vide correre giù per la discesa di Camclee non ci sono dubbi che fosse stato lui ad abitare per tanto tempo nel corpo di Jeanette ma era andato via finalmente e da quel giorno il diavolo non è più tornato a Belvery ma fu una prova assai dura per il curato rimase molto molto a lungo delirante nel suo letto e da quel momento è diventato l'uomo che oggi conoscete è diventato